Clamorosa missione di Donald Trump contenuta nel libro Rage, rabbia, del giornalista Bob Woodward, protagonista del Watergate, che ha trascritto il contenuto di 18 interviste al presidente americano realizzate tra il 5 dicembre 2019 e il 21 luglio 2020. Conoscevo bene la pericolosità del coronavirus settimane prima che cominciasse a mettere vittime nel suo paese, ma ha preferito sempre minimizzare per non creare panico. Anticipando l'uscita del libro Rage, la CNN ha rivelato che Trump ha ammesso di aver saputo settimane prima della morte confermata da Covid-19 negli Stati Uniti che il virus era pericoloso, disperso nell'aria, altamente contagioso, più mortale delle peggiori influenze e che lo ha ripetutamente minimizzato. Il 7 febbraio, nel corso di una delle interviste a Woodward, Trump ha affermato che questa è roba mortale. Il capo della Casa Bianca ha rivelato di conoscere il livello di minaccia. Ho agito in modo da ridurre il panico sul virus. Il tycoon non ha negato di sapere in anticipo della pericolosità del coronavirus, come ha ammesso nelle sue interviste al giornalista, ma ha spiegato di aver agito in modo che pensava. L'ultima cosa che volevo, ha detto in una conferenza stampa, era proprio creare il panico. Il candidato tema la Casa Bianca Biden dal Michigan durante un comizio reagisce senza mezzi termini alle rivelazioni del libro di Woodward. Il presidente USA ha infranto ogni promessa fatta ai lavoratori americani, non avendo messo fine alla delocalizzazione e offrendo contratti, ereditizi e agevolazioni fiscali alle grandi corporation. La portavoce della Casa Bianca, McKinney, rispondendo alle anticipazioni di Rage, ha dichiarato Donald Trump non ha forviato intenzionalmente gli americani sulla gravità del coronavirus. In difesa del presidente è arrivato il virologo Anthony Fauci, membro della Task Force sul Coronavirus Institute della Casa Bianca. Trump non ha distorto la realtà della pandemia, non vedo alcuna discrepanza tra quello che diceva noi e quello che diceva pubblicamente. Trump non ha distanzialmente gli americani, non ha distanzialmente gli americani.